Innaugurato nel Comune di Silvi il nuovo centro formazione professionale di Contrada Pianacce, l'opera progettata e cantierata nel corso della prima giunta presiduta da Gaetano Vallescura, ma mai ultimata che era stata ideata e finanziata come centro di formazione e lavoro per disabili. Un giorno importante, una bellissima giornata soprattutto perché abbiamo finalmente concluso un'opera che insisteva Silvi dal 2008, avevamo bisogno di completare questa struttura e rimetterla in gioco al servizio della cittadinanza, in questo caso attraverso una scuola di formazione sia per soggetti diciamo normodotati che quelli più svantaggiati. Dunque veramente un impegno di questa amministrazione comunale, abbiamo concluso in tre anni l'opera e oggi inauguriamo veramente questo centro di formazione indispensabile per il territorio. Siamo felicissimi di aver portato a compimento un progetto partito dal 2005 con tutte le varie problematiche che diamo la possibilità al territorio che chi non vuole proseguire una scuola teorica impariamo un mestiere. Abbiamo dei corsi fantastici, mappe a tre dimensioni, tornitori, elettricisti, tante cose belle. E' veramente una struttura che vale la pena venire a visitare. Le aziende in questo momento così particolari stanno chiedendo manodopera molto qualificata e questo è anche l'obiettivo della scuola. Faccio un esempio, l'ultimo progetto fu che è in essere, che è da poco concluso, mappe 3D, su 13 persone che hanno concluso il corso, tre sono già state assunte da aziende e gli altri stanno facendo colloquio. Dopo diversi anni di incertezze e di blocco dei finanziamenti, l'attuale giunta regionale su iniziativa dell'assessore Quaresimale ha finanziato l'ultima azione dei lavori per un importo di circa 60.000 euro, che ha consentito di rifinire sia le parti interne che l'ampia parte esterna, completando anche la dotazione di arredi e attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle elezioni. Sì, mancava una parte di finanziamento, io appena mi sono insediato, condattato appunto dall'amministrazione comunale di Silvi, ho impegnato questa somma per completare quest'opera. È sicuramente importante quando si apre una nuova struttura, sappiamo purtroppo la burocrazia a volte rallenda, però siamo giunti al traguardo, un importante centro di formazione, ma anche un centro lavorativo per disabili, quindi sicuramente una struttura attuale alla luce delle nuove leggi nazionali, quindi si possono formare tanti profili, qualificarli, fare dei percorsi individuali per disabili e quindi cercare di metterli nel mondo lavorativo, visto le criticità che ci sono.